Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. Dopo un'acquazione nella regione di Kiev, c'è stata una svolta della diga. Forti piogge e raffiche di vento che hanno spazzato la regione ucraina di Kiev hanno causato danni a diversi villaggi. Nel villaggio di Lishnia è scoppiata una diga a causa delle precipitazioni in eccesso. Durante le burrasche, alcuni alberi sono stati rotti o abbattuti, un significativo deflusso della tempesta ha causato lo straripamento del fiume locale, un flusso d'acqua tempestoso dalla diga distrutta si è precipitato sulla strada all'ingresso dell'insediamento, la superficie stradale è stata spazzata via e in alcuni punti si sono formati pozzi pericolosi. Gli astronomi avvertono di una megacometa nel sistema solare. Nel prossimo futuro, gli abitanti della Terra potranno vedere la cometa più grande nella storia delle osservazioni. Il grande oggetto spaziale 2014 UN271, a differenza di qualsiasi altra cometa registrata, volerà attraverso il sistema solare interno nel 2031. Questo oggetto potrebbe entrare nel libro dei record, diventandola, megacometa, la più grande mai scoperta. Secondo Rotteschi, la cometa sarà larga tra 96 e 370 km, mentre la cometa di Alley ha un diametro di circa 5,6 km. Al gigantesco astro è stato dato un nome armonioso, la cometa di Bernardinelli-Bernstein. L'asteroide, ritenuto la causa dell'estinzione dei dinosauri, è stato stimato essere largo circa 11 km e ha colpito la penisola messicana dello Yucatan, creando un cratere largo 200 km. Gli esperti della NASA ritengono che la probabilità di un tale scenario nel 2031 sia dello 0%. La cometa Bernardinelli-Bernstein è ora più vicina al Sole di Nettuno. In termini di luminosità, le comete sono completamente imprevedibili. Questa cometa, grazie alle sue dimensioni, può superare le più rose aspettative e creare un vero spettacolo di luci. Alluvioni hanno colpito parti del Michigan, dichiarato lo stato di emergenza. Dal 25 giugno, forti piogge hanno colpito il sud-est dello stato americano del Michigan, causando inondazioni. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite. Una delle autostrade vicino a Detroit era piena di auto affondate abbandonate dai conducenti. La città di Detroit e la contea di Wayne hanno sofferto di più il maltempo. Nelle contee di Oakland e Macomb, le inondazioni hanno bloccato le strade. A causa dei forti venti, circa 40.000 edifici nella regione sono rimasti senza elettricità. Secondo il National Meteorological Service di Detroit, a Garden City sono caduti più di 167 mm di precipitazioni il giorno prima del 26 giugno. Decine di conducenti sono stati soccorsi dai servizi di emergenza. L'inondazione era così profonda che erano visibili solo i tetti delle auto, i sommozzatori stavano controllando gli interni delle auto. Al 27 giugno non sono stati segnalati decessi. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito di ulteriori forti temporali e forti piogge. Un ulteriore pericolo è creato da raffiche di vento distruttive, sono possibili tornado. La capitale venezuelana ha subito un'alluvione devastante che ha colpito migliaia di persone. Dopo la forte pioggia che ha colpito il Venezuela il 24 giugno, le strade della città di Caracas sono state allagate da un'alluvione improvvisa, il traffico è stato interrotto. Almeno 800 famiglie hanno subito perdite, molte persone hanno dovuto essere evacuate e non sono state ancora ricevute informazioni sulle vittime. L'alluvione ha colpito anche le zone limitrofe alla capitale, gli automobilisti sono rimasti coinvolti nell'alluvione e si sono trovati in difficoltà. In alcuni punti l'acqua si è già ritirata, le strade sono piene di fango e detriti, le utenze hanno iniziato a ripulire i territori. Il disastro ha causato i danni più gravi all'area di Macarao, situata al confine del distretto della capitale Caracas con lo stato di Miranda. Secondo funzionari della protezione civile, diversi corsi d'acqua hanno straripato gli argini, portando fango e detriti nelle comunità. L'alluvione ha demolito uno dei ponti, 50 famiglie del villaggio sono state tagliate fuori dal mondo esterno. Diverse case sono state così danneggiate da diventare inabitabili e i soccorritori hanno evacuato le persone in un rifugio temporaneo. Piogge anomale hanno colpito la città bulgara di Sliven, allagando le case. Sul territorio della Bulgaria, nella regione di Sliven, sono cadute piogge torrenziali, nel comune di Kotel sono caduti circa 60 mm di precipitazioni in appena un'ora. Inondazioni torrenziali allagarono cortili e strade e molti edifici furono danneggiati. Le inondazioni hanno causato danni a veicoli, case allagate, annessi e istituzioni. In alcuni punti, la profondità dell'acqua ha superato un metro. I funzionari hanno riportato danni a più di 200 case, 50 edifici sono stati gravemente danneggiati, un alluvione ha travolto il museo e la sottostazione. Diverse persone nel villaggio di Tia sono state costrette ad evacuare, poiché era in pericolo di vita rimanere nella zona del disastro. Le autorità della regione di Sliven hanno riferito che in diversi distretti del comune di T.V. Ardizza, a causa della tempesta, si è verificata un'interruzione di corrente. Come riportato in precedenza, forti acquazzoni in Romania hanno provocato inondazioni in 16 contee. Come previsto, oggi, 28 giugno 2021, la regione metropolitana è in balia di un ciclone di onde attivo formatosi su un fronte atmosferico freddo. Subito nel pomeriggio ha attaccato la capitale e la zona circostante. Alle 18, le piogge si sono riversate a Mosca, presso la stazione meteorologica VDNKH 20 mm di precipitazioni, a Tascino e Butovo, 37 mm sono caduti negli indicatori di precipitazione. A Nuova Mosca, a Mikhailovskoi, sono stati registrati 48 mm di precipitazioni. Ebbene, gli acquazzoni più forti si sono verificati nel nord-ovest e nel nord della regione di Mosca, 52 mm di precipitazioni sono caduti a Volokolamsk e 68 mm a Solneknogorsk. E questo è poco più del 90% della norma mensile a giugno. Durante il passaggio del fronte in appena un'ora, la temperatura dell'aria è scesa di quasi 10 gradi. Le piogge sono state accompagnate da temporali, ci sono stati molti fulmini nelle linee elettriche e nella sottostazione, che hanno causato interruzioni di corrente su larga scala. La velocità del vento a raffiche ha raggiunto i 25 metri al secondo, molti alberi e pali delle linee elettriche sono stati abbattuti. A Ramenskoi, il vento ha abbattuto una gru a torre, fortunatamente l'operatore della gru non c'era in quel momento. Molte strade e passaggi sotterranei sono stati nuovamente allagati, si sono verificati allagamenti nelle stazioni della metropolitana e il traffico su alcune linee è stato interrotto. I tetti sono stati spazzati via da diverse case, anche a Mosca. Nel nord-est della città, nel centro televisivo di Ostenchino, è allagato il primo piano di uno degli edifici del complesso. E queste non sono le ultime piogge per oggi. Il clima ha normalmente caldo, con una temperatura di più 30 gradi e oltre, osservato a Minsk da poco più di una settimana, lo scorso sabato 26 giugno 2021, è stato abbattuto da un fronte atmosferico freddo. Come spesso accade in una situazione simile, i forti contrasti termici hanno causato tutta una serie di fenomeni meteorologici sfavorevoli, temporali passati, con forti acquazzoni, in luoghi con burrasche e grandine. Secondo i dati ufficiali della stazione meteorologica di Minsk, in città sono caduti 46 mm di precipitazioni al giorno, ovvero quasi il 60% della norma mensile a giugno. A Minsk, i flussi d'acqua sono stati fermati da 32 filobus, 37 autobus e 5 linee di tram. Sono state allagate 20 auto e 5 minibus, che i soccorritori hanno dovuto trainare in luoghi sicuri. Anche le persone dovevano essere salvate. Nella sola Minsk, 91 persone sono state evacuate dalle aree allagate, inclusi 19 bambini. Nella città e nei suoi dintorni sono stati abbattuti circa 30 alberi, sotto uno dei quali è morta una donna, nella regione di Minsk è stata spazzata via una sezione di 20 metri della strada, dove c'era un piccolo ponte sul fiume. Terremoti sulla Terra. Durante il giorno, sulla Terra si sono verificati 89 terremoti di magnitudo da 2.0 a 5.3, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. Grande barriera corallina, Australia. La barriera corallina più grande e più bella si trova nelle acque del Pacifico sulla costa australiana. La struttura della barriera corallina è formata da miliardi di minuscoli microrganismi che hanno creato il più grande ecosistema corallino del mondo. Sullo sfondo di una foto dei luoghi più belli del mondo, una foto di una barriera corallina si distingue per la sua luminosità, originalità e un incredibile tripudio di colori. La grande barriera corallina si estende lungo la costa nord-orientale dell'Australia per 2.500 chilometri e copre un'area di circa 344.400 chilometri quadrati. È il più grande oggetto naturale sulla Terra formato da organismi viventi può essere visto dallo spazio. La grande barriera corallina ospita un'enorme varietà di organismi viventi ed è stata quindi selezionata dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 1981. La grande barriera corallina è nota all'umanità da molto tempo, è utilizzata dagli aborigeni australiani e dagli abitanti delle isole dello stretto di Torres, essendo una componente importante della cultura e della spiritualità delle popolazioni locali. Il National Trust ha nominato la barriera corallina il segno distintivo del Queensland. Il turismo è una componente importante dell'attività economica nella regione, generando più di 3 miliardi di dollari all'anno. Grazie per aver guardato il video. Se vi piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.